Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video di Action. Allora, questo qui è il trailer presentazione dove viene presentato i secondi quattro episodi della serie, la seconda serie, composta da quattro episodi. Allora, dura poco, quindi direi di farlo subito. Via! Ah! Ok ragazzi, allora è finito. Come avete visto mancano i quattro episodi delle prime stagioni, quindi Kanto, Kanto, Yoto e Nessinno. Non capisco come mai siano partiti dall'ultimo andando in su. Comunque devo dire che sono veramente, che non sono anche molto molto interessanti. Anche perché abbiamo visto Megarei Quasadelta e tanta tanta bella roba. E quindi niente, vi aspetto con i futuri episodi. Ciao ragazzi!